Noi dell'Associazione Progetto Sur, insieme a Mirando al Sur abbiamo ideato e organizzato una serata come questa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti di essere venuti perché, oltre a godervi la presenza di un grande come Leon, della sua musica, dei suoi progetti, state collaborando con l'Argentina. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti per venire, stiamo tutti collaborando, no? Ustedes saben che tutti stiamo lavorando a Donore, e grazie a tutti per collaborare. Grazie a tutti. 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 hai qui ti aiuta a despegar e i che non ti riconosci quando sei vencito quantos hai che pensano che è tardi per tutto e quantos claman sempre adelante quantos che ved la pedra nel camino e quantos che non miro nada la alegria con la fuerza se alimenta e non hai muros ni rejas che la frenen hai qui desembarcan ardendo con un grito sin barcos e sin armas por la vida